Scegli Coconato Automobili, scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili, vende vetture fuoristrada nuove e aziendali, con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili, ospita la gentile clientela nella propria sede. Incontrata Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com Si torna a parlare di sanità nel territorio del Pollino, l'appuntamento coordinato dall'ex vicesindaco di Castrovillari, Anna De Gaio, è stato organizzato dal PDL e dall'Associazione Progetto Futuro Calabria. All'incontro, che si è tenuto presso il Circolo Cittadino, hanno preso parte il sindaco Franco Bleyotte, il consigliere regionale presidente della seconda commissione bilancio, Franco Morelli, e il consigliere regionale presidente terza commissione attività sociali, sanitarie, culturali, formative, Nazareno Salerno. Diverse sono state le domande poste dagli operatori sanitari all'onorevole Salerno. Ma come si muoverà la nuova organizzazione sanitaria in Calabria? L'ospedale deve essere classificata quella struttura sanitaria laddove ci sono le sale operatorie. Laddove non ci sono le sale operatorie, quella struttura non può essere considerata ospedale. E allora procediamo con la chiusura di alcune strutture, ne abbiamo individuato cinque, e la riconversione di altre 14 strutture, che avverrà in parte nel corso del 2011 di questo anno, ed entro marzo 2012 sarà completata la riconversione. Che cosa accadrà in queste strutture? Metteremo gli ambulatori, strutture che andranno ad ospitare fino a 24 ambulatori, proprio per dare un servizio sul territorio, al cittadino. Si lavorerà in sintonia con i medici di base e Agenas ha già pronto questo progetto per la riorganizzazione della rete territoriale, e a breve verrà presentato ufficialmente nei dettagli questo programma. E per il resto abbiamo individuato la riorganizzazione della rete ospedaliera in quattro strutture AB, otto strutture SPOC, quattro ospedali generali e quattro ospedali di montagna. E la sanità castrovillarese? Il governo regionale, il commissario per l'attuazione del piano di rientro, ha individuato all'ospedale di Castrovillari come struttura SPOC. Che cosa significa struttura SPOC? Struttura SPOC significa tutto, c'è tutto. Non ci saranno soltanto le specialistiche a livello di neurochirurgia, cardiochirurgia, ma per il resto l'ospedale di Castrovillari avrà tutto. Per quanto riguarda poi l'emodinamica presso l'ospedale di Castrovillari, queste le parole dell'onorevole Salerno che si è rivolto direttamente al primario di cardiologia, Giovanni Bisignani. Dottore Bisignani, le sa bene quanto io ci tengo a questa situazione per dare immediatamente una risposta. Io già da domani mi attiverò presso il Dipartimento per accelerare e snellire questa pratica e per avere presto l'autorizzazione. Perché è giusto che a Castrovillari si attivi l'emodinamica. Perché in un ospedale SPOC, che abbiamo la fortuna di avere non la cardiologia soltanto come servizio di cardiologia, ma avere anche l'emodinamica significa dare veramente una risposta ad un territorio che è molto importante e che non è facilmente collegabile con i punti di riferimento della rete cardiologica calabrese. Che anche su questo, dottore Bisignani, secondo me bisognerebbe un attimino ragionarci di nuovo, non appena le condizioni economiche, le condizioni del piano di rientro ce lo consentiranno, anche su questo, secondo me, bisognerebbe ragionarci di nuovo. No, assolutamente. Io penso che noi come rete cardiologica va bene in Calabria come è stata concepita all'epoca. Qualcosa forse poteva essere valutata meglio, ma oggi, a distanza di qualche anno, penso che anche su questo una riflessione vada fatta. Perché quando parliamo di rete cardiologica spesso il discorso coincide con l'urgenza. Ed è qui che mi voglio fermare. L'emergenza urgenza. L'emergenza urgenza, oltre alla rete territoriale, è la grande scommessa su cui noi puntiamo. Perché anche in queste strutture che abbiamo riconvertito e che abbiamo chiuse, ritroverete comunque un punto di primo intervento. Se non 24 ore su 24, comunque 12 ore su 24. Questo per dire che tutti i territori devono essere garantiti di un servizio di emergenza urgenza. Grazie. 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 Grazie.